È un premio che ormai teniamo da tantissimi anni e andiamo a premiare le eccellenze. Le eccellenze che si sono distinte per coraggio imprenditoriale in quanto sono andate a comprare delle aziende o in Italia o all'estero. Quindi l'acquisizione come atto importante di espansione aziendale. Non premiamo tanto la dimensione quanto piuttosto la validità del progetto. Ci sono effettivamente dei trend in corso, sicuramente molto importante la presenza di capitali esteri nel nostro sistema. Italia su estero ci sono pochi campioni nazionali che vanno oltre alpe con acquisizioni importanti, però tutto sommato sono molto agguerriti. Invece soffriamo sempre Italia su Italia. È come se le aziende italiane volessero investire di meno nel nostro paese.